insomma, quindi questo è un messaggio ma senza di voi non non saremmo più no, questo è un altro discorso, certamente parliamo di una sinergia però io voglio dirlo, cioè il vostro lavoro è sottovalutato e siccome il vostro lavoro è sottovalutato magari anche voi in qualche modo vi considerate un pochino di meno di quello che in realtà voi siete invece è giusto che questa cosa vi venga riconosciuta io mi approfitto a dire, siccome sono anche parole che non sentite mai perché invece magari vi scontri che ho anche scritto, che ho anche scritto, cioè continuo a ribadire perché so che magari quando andate a casa del cliente il cliente dice, vabbè, fammi questo lavoro quanto vuoi, no, punto no, mezzo, calma per esempio il campionario stai parlando con un uomo che ha una sensibilità che deve metterti il suo sudore sulla palestra il discorso del ristorante, del cameriere che ti butta il menù senza avere un dialogo con lui bravo, è il discorso che facciamo io insieme